Siete stanchi di correre a casa dei nonni o dei genitori perché non sono in grado di cambiare il volume alla suoneria oppure non trovano più l'icona di Whatsapp? Abbiamo la soluzione per voi ed è realizzata da Emporia. Ciao a tutti da Luca Viscardi e da Tecnolaura. Con il nostro video di oggi vi presentiamo la gamma di prodotti di un marchio molto interessante che arriva dall'Austria, si chiama Emporia ed è specializzata nella realizzazione di dispositivi per un pubblico senior. Da molti anni ormai si parla di distanza digitale tra le diverse generazioni che soluzioni come quelle di Emporia contribuiscono ad abbattere. Dai cellulari agli smartphone fino ai tablet, i dispositivi sono concepiti e realizzati perché il loro utilizzo sia semplice, immediato ed intuitivo. Non bisogna però confondere la semplicità d'uso con un valore ridotto dei prodotti perché in realtà Emporia realizza degli oggetti molto curati, con soluzioni tecnologiche avanzate. I cellulari, gli smartphone e i tablet Emporia sono compatibili con la rete 4G e con il servizio che potremmo definire volte. Però fermi tutti, vi siete già iscritti al nostro canale? Ecco, fatelo ora e mi raccomando attivate la campanella, ovviamente grazie, grazie, grazie se sceglierete di farlo. Mi raccomando dai, dategli retta, se no poi ci rimane male. Spendiamo dunque qualche secondo per i temi anticipati, no? Il 4G e il cosiddetto Volte, Voice over LTE. Partiamo proprio dal 4G. Questo è un tema importante perché moltissimi dei prodotti che oggi ci sono in circolazione, dedicati ad un pubblico senior, diciamo agli anziani, oggi sono compatibili con il 3G. Ma prestissimo gli operatori spegneranno quella gamma di frequenza. Vodafone lo ha già fatto e questo creerà un problema a molti dei prodotti in circolazione. I nuovi dispositivi di Emporia sono già compatibili con le reti future e il 4G che continuerà a rimanere disponibile ancora per moltissimi anni. Volte si traduce in Voice over LTE. È un servizio che oggi offrono Team, Vodafone e Wind 3. Questo significa che quando si fanno delle telefonate tra questi operatori, la qualità audio è superiore, a pieno beneficio della comprensione delle chiamate. I dispositivi Emporia possono sfruttare questa funzione. C'è però un dettaglio su cui vorremmo soffermarci e la cosa incredibile è che parliamo di carta. Sì, perché dentro le scatole dei cellulari e degli smartphone di Emporia c'è una vera e propria guida completa per l'uso dei servizi moderni. Un manuale molto semplice, facile da consultare per prendere per mano chi non ha mai usato alcune tecnologie e aiutare queste persone ad entrare in una realtà connessa. Sembra un dettaglio ma può essere davvero una svolta fondamentale per la vita digitale delle persone più adulte. Ricapitoliamo quindi i punti di forza di Emporia di cui abbiamo parlato fino a qui. Tutti i prodotti sono 4G, tutti i dispositivi sono compatibili con il volte. All'interno della scatola c'è un manuale di introduzione alle nuove tecnologie. Ovviamente non è tutto qui ma diamo proprio un occhio da vicino ad esempio al cellulare a conchiglia che Emporia Touch Smart 2 riprende la forma classica del telefono a conchiglia ma unisce lo schermo touch, la connessione wifi e permette anche di usare whatsapp, signal e telegram oltre che di navigare in internet direttamente dal telefono. Sulla parte posteriore c'è un polsante per le chiamate di emergenza che però all'occorrenza può essere nascosto se si pensa che non sia utile, basterà cambiare questa cover. Nella confezione c'è un supporto da tavolo che permette di ricaricare il telefono senza dover centrare il buchetto del connettore. Facilissimo. Un attimo, lo so, ve l'abbiamo già chiesto ma se non vi siete ancora iscritti al nostro canale fatelo ora. Emporia Smart 5 invece dispone di una speciale custodia che permette di memorizzare quattro numeri da chiamare direttamente e anche in questo caso per la ricarica basta appoggiare il telefono sulla base che diventa anche un altoparlante viva voce. Questo è un vero e proprio smartphone ma offre un software pensato per semplificare il suo uso senza però limitare la possibilità di installare milioni di app disponibili oggi nel mondo Android. È lo stesso concetto del nuovissimo tablet Emporia che è un oggetto bello da vedere, resistente, pratico e che prima di tutto ha questa base da tavolo che può anche essere appesa ad una parete che serve per ricaricare ma anche per rimanere nella posizione corretta quando con il tablet si sta facendo una videochiamata, si sta guardando un video o semplicemente non lo si sta utilizzando. Anche il tablet Emporia Tab 1 è dotato di un software semplificato che rende più intuitivo per chiunque il suo utilizzo. Ci sono tutte le funzioni, le app e il potenziale di un normalissimo tablet Android ma è stata usata un'interfaccia più semplice ed immediata, a tutto vantaggio di chi lo usa. Ma per mostrarvi quanto è facile l'utilizzo di questo tablet vi rimandiamo al nostro prossimo video, ricordatevi di registrarvi al nostro canale per sapere quando sarà disponibile e di attivare la campanella. A prestissimo da Luca Viscardi e da Tecnolau.